La vera storia del Piave e della Bonotto delle Tezze. Questo è quello che vogliamo raccontare oggi e lo possiamo trovare anche in questi antichi libri pubblicati a Venezia. Questa famiglia Bonotto delle Tezze, in questo piccolo paese da così tanto tempo, sempre dedita all'attività di agricoltura e di commercio dei prodotti che ne derivavano e quindi l'allevamento, il bacco da seta, il bestiame, i foraggi, le sementi. Oggi non può mancare un racconto sul Raboso del Piave, presente da almeno 2.000 anni in questa terra, ma che oggi insieme a voi vogliamo riproporre con uno stile nuovo, perché niente sopravvive nel tempo se non è in grado di evolvere. Noi vogliamo scrivere nuove pagine di questo vitigno, vogliamo scriverle per voi, per farvi conoscere una storia unica, un vino unico, dal carattere rustico sicuramente, ma per altri versi molto moderno. Ci stiamo lavorando e vogliamo proporvi, vogliamo farvi conoscere questi vini, non solo nella zona di produzione, ma ovviamente in tutto il mondo dove voi siete.